La Regione Abruzzo ha acquisito il triste primato di essere l'unica Regione italiana da quando le borse di studio sono state istituite ad non aver permesso l'erogazione di una sola borsa di studio. Parliamo di tre annualità scolastiche, dal 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Ad oggi Regione Abruzzo ha tenuto fermi e continua a tenere fermi più di 2 milioni e 700 mila euro che sarebbero invece dovuti andare a sostegno di tutti gli studenti abruzzesi per la lotta contro la dispersione scolastica. Teniamo presente che queste borse di studio sono dirette ad una fascia debole, a chi ha un reddito ISEE inferiore di 15 mila euro ma soprattutto danno la possibilità di acquistare libri di testo, digital device, nonché attività di approfondimento e attività culturali. È gravissimo che il Governo di centrodestra continui a inseguire la propaganda cercando di acquire uno scontro istituzionale che non sta portando nulla se non un danno a questo territorio e dimentichi invece le responsabilità di governare un'intera Regione e tutto il popolo abruzzese. Gli studenti abruzzesi sono gli unici studenti ad non aver potuto soffrire di questo vantaggio. L'aspetto grave in tutto ciò è che se entro novembre di quest'anno la Regione non trasferisce tempestivamente gli elenchi al MIUR noi rischiamo di perdere la prima tranche di più di 820 mila euro e così sarà anche negli anni prossimi. Io per questo ho portato all'interno del Consiglio regionale attraverso l'interpellanza una richiesta e ho sollevato la questione dinanzi al Consiglio regionale per avere un dettaglio e le spiegazioni di ciò che hanno fatto all'interno dell'assessorato. L'assessore e il Presidente non devono più perdere tempo. Bisogna agire tempestivamente per garantire un diritto a tutti gli studenti abruzzesi.